iniziamo la nostra mattonella della nonna a forma di pentagono cioè con cinque lati e cinque angoli nodo d'inizio inseriamo l'uncinetto nell'asola e adesso da qui 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 chiudiamo in cerchio facendo una maglia bassissima nella prima catenella d'inizio creato il nostro cerchietto adesso 1 2 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta dobbiamo creare all'interno di questo cerchietto cinque gruppi di tre maglie alte ciascuno separati tra di loro da una catenella carichiamo il filo entriamo al centro dell'anello e facciamo una seconda maglia alta di nuovo carichiamo il filo puntiamo al centro dell'anello terza maglia alta primo gruppetto una catenella di separazione ricarico il filo entro al centro dell'anello una maglia alta seconda maglia alta terza maglia alta secondo gruppetto completato una catenella ricarico il filo creo il terzo gruppetto prima maglia alta seconda maglia alta terza maglia alta e abbiamo 1 2 3 catenella di separazione mancano altri due gruppetti da tre facciamoli insieme 1 2 3 il quarto il quarto il quarto una catenella facciamo un po di spazio per fare l'ultimo e quinto gruppetto di questo primo giro entriamo una maglia alta seconda maglia alta terza maglia alta e per chiudere questo primo giro anziché fare la catenella carichiamo il filo e andiamo a fare una mezza maglia alta nella terza delle tre catenelle fatte ad inizio di giro 1 2 terza catenella entro e faccio una mezza maglia alta in questo modo mi trovo già al centro per iniziare il secondo giro allora pronti per il secondo giro in questo secondo giro vedete noi abbiamo uno due tre quattro cinque spazi da una catenella in questi cinque spazi di una catenella noi adesso andiamo a creare i nostri cinque angoli del pentagono cominciamo subito con tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta entriamo all'interno di questo spazio facciamo uno e due maglie alte il primo angolo sarà costruito dalla sua seconda metà andremo a completare l'altra parte di angolo alla fine di questo giro da qui carichiamo il filo e adesso nel secondo spazio andiamo a costruire invece un angolo completo solo all'inizio ne costruiamo mezzo per motivi di comodità di fine inizio giro quindi adesso vedete carico il filo entro nel secondo spazio di una catenella faccio tre maglie alte 1 2 e 3 metà angolo una catenella adesso rientro in questo stesso spazio faccio altri tre maglie alte 1 2 e 3 quindi il secondo angolo è completato vedete ed è composto da tre maglie alte una catenella tre maglie alte devo farne 5 così quindi nel secondo spazio la stessa cosa terzo quarto nel quinto costruirò la seconda parte di angolo dato che qui ne ho costruito vedete la prima metà ma andiamo a vedere il secondo angolo faccio la stessa cosa entro 1 2 3 maglie alte una catenella di nuovo 1 2 3 maglie alte ecco qua terzo angolo completato andiamo a fare il quarto nel quarto spazio di una catenella carico il filo entro nello spazio di una catenella faccio tre maglie alte 1 2 3 di nuovo una catenella e altre tre maglie alte nello stesso spazio 1 2 3 secondo terzo quarto angolo completato adesso adesso entro nel prossimo spazio di una catenella e faccio un altro angolo 1 2 3 una catenella di nuovo 1 2 3 maglie alte finito il quinto angolo vado a completare il primo di cui avevo fatto solo una metà quindi carico il filo rientro nello spazio che qui non è di una catenella ma sotto ricordate c'è una mezza maglia alta che vale come una catenella faccio tre maglie alte 1 2 3 maglie alte e termino con una mezza maglia alta di nuovo 1 3 maglie alte e quindi salta nella terza catenella in questo modo eccomi qua e si è formato già un pentagono vedete 1 2 3 4 5 lati primo angolo secondo angolo terzo angolo quarto angolo quinto angolo giro numero 3 giro numero 3 da qui parto con 3 catenelle rientro in questo stesso spazio e faccio altre due maglie alte 1 e 2 questa è la metà del primo angolo da qui carico il filo adesso vedete tra questo primo angolo sottostante e il secondo c'è questo spazio tra il primo angolo e il secondo io entro in questo spazio a fare 3 maglie alte 1 2 3 carico il filo carico il filo adesso qui ho l'angolo con lo spazio di una catenella in mezzo entro nello spazio di una catenella in mezzo a creare un angolo completo 3 maglie alte 1 2 3 una catenella e di nuovo 3 maglie alte 1 2 3 ecco qua adesso tra l'angolo sottostante e quello successivo vedete c'è di nuovo questo spazio questo di chiamiamolo questo triangolino tra un angolo e l'altro lì dentro vado a mettere 3 maglie alte 1 2 3 quindi vedete adesso che tra un angolo e l'altro saranno sempre 5 angoli in questo terzo giro cominciamo a mettere tra un angolo e l'altro un ventaglietto di 3 maglie alte intermedio prima i cinque angoli erano tutti uno attaccato all'altro nel giro secondo nel giro terzo tra un angolo e l'altro c'è un ventaglietto intermedio di 3 maglie alte adesso al centro del prossimo angolo nello spazio di una catenella un nuovo angolo 3 maglie alte 1 2 3 una catenella di nuovo 3 maglie alte pardon 1 2 3 3 adesso adesso prima di andare a fare il nuovo angolo al centro del prossimo c'è questo spazio intermedio che vado a riempire entro dentro con 3 maglie alte 1 2 3 spazio intermedio riempito tra un angolo e l'altro e adesso di nuovo al centro del prossimo angolo un nuovo angolo 3 maglie alte 1 2 3 una catenella altre 3 maglie alte 1 2 3 vedete stiamo ricostruendo piano piano il nostro pentagono che si ingrandisce sempre di più adesso tra questo angolo e il prossimo vedete abbiamo questo spazio intermedio che riempio con 1 2 3 maglie alte perfetto al centro del prossimo angolo questo è il quinto vado a fare un nuovo angolo 3 maglie alte 2 3 una catenella 3 maglie alte 1 2 3 adesso prima di completare la seconda metà del primo angolo all'inizio ne abbiamo fatto mezzo di angolo ho lo spazio intermedio tra un angolo tra il quinto e il primo che riempio con 3 maglie alte 1 2 3 e come vedete ho praticamente finito devo finire solo il primo angolo di cui ne avevo fatto solo metà quindi rientro nello stesso spazio del primo angolo a fare 1 2 3 maglie alte e finisco con una mezza maglia alta nella terza catenella d'inizio giro completato il nostro terzo giro vedete 1 2 3 4 5 lati 1 2 3 4 5 angoli e tra un angolo e l'altro vedete c'è uno spazio intermedio che non è un angolo ma sono solo 3 maglie alte 1 2 3 4 5 spazietti intermedi li vedete? adesso ad ogni nuovo giro noi andremo sempre a ricreare un angolo al centro di ogni angolo e ad ogni nuovo giro gli spazietti intermedi aumenteranno di 1 in 1 quindi qui era uno spazio intermedio qui diventeranno 2 andiamo a vedere da qui comincio con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e nello stesso spazio altre 2 maglie alte perché ricordate il primo angolo lo costruiamo dalla non lo facciamo intero ne facciamo solo metà l'altra metà la completiamo alla fine ok adesso vedete qui prima di arrivare al secondo angolo io di spazi vuoti ne ho 1 e 2 li vado a riempire ognuno con 3 maglie alte 1 2 3 quest'altro spazio intermedio di nuovo 1 2 3 ecco qui e adesso al centro del secondo angolo ricrea un nuovo angolo completo 1 2 3 maglie alte una catenella e nello stesso spazio 3 maglie alte scusate scusate mi si è hanno dato il filo può succedere 1 2 3 primo lato vedete completato questo è il secondo angolo adesso di nuovo due spazi intermedi da riempire prima di arrivare al terzo angolo riempio il primo 1 2 e 3 riempio il secondo 1 2 e 3 sono arrivata al terzo angolo al centro del terzo angolo ne creo uno nuovo 3 maglie alte una catenella di nuovo 3 maglie alte vedete ho creato primo lato il secondo adesso creerò il terzo il quarto e il quinto andate avanti a lavorare secondo questa sequenza vi faccio rivedere un'ultima volta come completate la seconda metà del primo angolo e poi continuate a lavorare giri su giri giri su giri la mattonella a pentagono aumenta sempre di più e voi la farete grande quanto vi occorre e qui potete poi da questa mattonella a pentagono andare a creare tante tante cose terminiamo il giro andando a completare il primo angolo di cui avevo fatto solo la seconda metà carico il filo entro nello spazio del primo angolo e faccio il secondo gruppo di tre maglie alte 1 2 e 3 e come ad ogni giro finisco con una mezza maglia alta nella terza catenella di inizio giro ecco qua finirò sempre in questo modo ad ogni nuovo giro e ad ogni nuovo giro il mio pentagono diventerà sempre più grande grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.